E' tornato come ogni anno l'appuntamento con la fortuna a Pordenone. Più di mille spettatori raccolti nel corso cittadino davanti al municipio hanno assistito alla tombola in piazza dell'8 settembre, una tradizione che si rinnova ormai da 65 anni in occasione della festa della Natività di Maria, patrona della città assieme a San Marco. Monte premi come sempre consistente, 1200 euro per la tombola, tombolino 400 euro, cinquina 500 e 300 euro per la quaterna. La festa è cominciata alle 17.30 con la musica della filarmonica città di Pordenone, diretta dal maestro Didier Ortolan, intervallata dagli sketch del duo comico dei Papu. La fortunata vincitrice della tombola è stata la signora Rosetta Fracassa Zorzetto, che ha incassato l'assegno più ambito. Era presente alla manifestazione anche il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. 8 settembre, uguale, fira campionaria, inaugurazione e tombola nel pomeriggio. Sono due cose che fanno parte della vita della città ed è un momento per tutti noi per avere di nuovo un'identità precisa. Anche quest'anno i Papu sono qui, che con le loro ricette e con i loro menù ci danno un momento così di ottimismo e anche proprio di felicità. Per la città è uno di quei momenti tradizionali immancabili che noi come amministrazione cerchiamo sempre di sostenere proprio perché ci fa sentire tutti insieme. Credo che anche quest'anno ci saranno grandi numeri, il tempo è meraviglioso, anzi fin troppo. Ci diamo appuntamento per il prossimo anno, per un'altra edizione, sempre con lo stesso serenità, nonostante sappiamo il momento. Vi invito comunque sempre a partecipare proprio perché questa è una ricetta scacciacrisi. Grazie a tutti.